Adesso lo spazio dedicato ai lucani sparsi nel mondo, è il momento di Basilicate. Buonasera e benvenuti all'appuntamento del mercoledì con la storia e le storie dei lucani nel mondo. Questa sera andremo in Argentina, ma prima, come al solito, dalla redazione le notizie degli ultimi giorni. La prima notizia di questa settimana arriva dal Sud America, dove in questi giorni il pittore e fotografo lucano Antonio Cillis, originario di Pietragalla, sta portando in giro la sua mostra intitolata Percorsi della Memoria. Prima tappa a Buenos Aires, le opere ripropongono i colori e i paesaggi tipici della Basilicata. Numerosa la partecipazione dei lucani, che con emozione hanno ammirato le tele dell'artista, ricordando così la terra d'origine. Natale, 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 Natale.